Grande successo e partecipazione a Leonforte per la giornata di sensibilizzazione organizzata dall'AMPE e dalla pedagogista Francesca Pirronitto. L'intero paese si è mobilitato, partecipando attivamente a diversi momenti che hanno caratterizzato l'evento. Protagonisti indiscussi i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, nonché principali destinatari dell'azione pedagogica. Emozionante il convolgimento dei bimbi del catechismo e la concreta partecipazione di molteplici realtà scolastiche e associative territoriali, che salendo sul palco e utilizzando i più disparati linguaggi emozionali e comunicativi, hanno cercato di evidenziare la propria posizione concentrando l'attenzione sulla necessità di agire concretamente per debellare questo terribile virus della nostra società. Presso il piazzale antistante alla Villa Bonsignore sono dunque intervenute le comunità ecclesiastiche di Leonforte ed oltre le scuole e le associazioni territoriali. L'evento ha avuto il sostegno economico dell'associazione anti-rack del Falcone e Borsellino ed inoltre ha visto la partecipazione straordinaria dell'onorevole Concetta Arraia, deputata all'Assemblea regionale siciliana.